Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi riguardo a Manor Lords che non si avvia su PC ovviamente è possibile sempre fare una verifica al gioco se in questo caso ci sono dei file corrotti nel sistema o nella sua cartella quindi vanno aggiornati e ripristinati quindi andiamo direttamente su Manor Lords qui nella libreria di Steam o Epic Games per quelli che lo tengono su Epic Games basta andare sui tre puntini poi vai su gestisce e lì c'è la verifica da fare per Steam invece tasto destro su Manor Lords nella libreria e andare così su proprietà una volta fatto vai direttamente su file installati e poi vai su verifica file integrità una volta fatto aspetta così la scansione dei file e chiudi un attimo Steam una volta fatto quello che ti consiglio di fare è di uscire dal tuo profilo di Steam e poi rifare di nuovo l'accesso quindi vai direttamente esci da Steam ok esci dall'account e poi rifare di nuovo l'accesso ora io chiudo un attimo Steam e andiamo così ad aggiornare i vari driver per il gioco in descrizione ti ho lasciato vari link che ti porteranno sulla pagina per installare così il web installare DirectX per la scheda video il Microsoft Visual C++ per il nostro sistema e poi ci sono i driver per Nvidia e per quelli di AMD andiamo prima a scaricare quello di Web Installer quindi facciamo scarica installiamo così DirectX Web Installer ed eccolo accetto il contratto installate il bingo installazione completata facciamo fine e passiamo direttamente a Microsoft Visual C++ vai su Visual Studio 2015 fino al 2022 e installiamo gli ARM64 x86 x64 una volta fatto prendi questi tre setup esegui come amministratore tutti e tre accetto i termini e le condizioni di licenza stessa cosa lo fai anche con gli altri ripristina a me dice ripristina perché è già installato un driver del genere diciamo sì ripristina è necessario riavviare il computer faccio chiudi se non dovesse funzionare andiamo direttamente su puoi anche cancellare questi driver perché poi non ti serviranno più andiamo tasto a destra sopra su start e vai su gestioni dispositivi controlliamo così la nostra scheda video driver aggiornando driver cerchi driver nel computer ci do un elenco di driver disponibili Windows ha completato l'aggiornamento dei driver della nostra scheda video se non dovesse funzionare possiamo sempre aggiornarla sui siti che ti ho lasciato in descrizione quindi a me il sito è di Nvidia quindi tipo di prodotto metto GeForce GeForce 16 serie 1660 super Windows 11 faccio avvia la ricerca ed eccole qua driver GeForce game ready vai al download oppure gli altri driver il driver che tengo io è questo qua driver GeForce game ready che sarebbe a me Nvidia app puoi anche aggiornare i driver qua sopra nuovo driver rilasciato il 16 di aprile e fai installa ovviamente bisogna anche controllare gli aggiornamenti sul nostro sistema quindi se vai anche su impostazioni di Windows Update verifica disponibilità aggiornamenti per vedere se devi fare qualche aggiornamento su Windows 10 o Windows 11 se non dovesse funzionare entriamo così nella sua cartella dobbiamo aprirlo come amministratore oppure tasto destro sopra su Manon Lords proprietà compatibilità disabilito ottimizzazione schermo intero eseguo questo programma come amministratore e fai applica modifica questi DPI elevati sistema avanzato DPI programma e faccio ok una volta fatto eseguo il programma come amministratore ed ecco Manon Lords che si è avviato senza nessun problema quindi se questo video è stato utilissimo su come risolvere il problema all'avvio di Manon Lords su PC iscriviti lascia like per altri problemi e commenta sotto il video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao